La digitalizzazione sta moltiplicando i canali, in che modo la banca può gestirli e valorizzarli? È indubbio che i nuovi canali esistono, è inutile discutere se ci sarà un futuro dei canali diretti, se ci sarà un futuro per la banca su Inter è un dato di fatto e scontato, com'è scontato che ci sarà un'interazione più forte mediante i social. L'aspetto vero è come gestire operativamente i social. Aprire una pagina Facebook è relativamente semplice, gestire una pagina Facebook è drammaticamente difficile, perché se facciamo un'analogia con i canali, anche diretti del passato, vedisi canali telefonici, era sempre una relazione uno a uno. Potevi anche sbagliare in una delle migliaia di relazioni, ma in una relazione stile social è una relazione uno a molti. Purtroppo la tendenza è di enfatizzare lo sbaglio, quindi basta uno sbaglio per creare, come posso dire, difficoltà. Quindi è importante avere un'idea chiara, avere un'idea che è un canale costoso da gestire e devi avere una struttura operativa per presidiarlo, perché ci sono dei vantaggi enormi nell'ascoltare il cliente. Cioè il cliente è parte dell'azienda stessa, le aziende di successo degli ultimi anni hanno acquisito know-how dai clienti, però devono saperli ascoltare questi clienti. Questo è il tema e la criticità maggiore che intravedo. Come supportate le banche nell'attività sui social? Noi Centax Telecom lo dice il nostro nome, siamo nati vent'anni fa con la parola Telecom, perché eravamo specializzati nella gestione del CRM mediante il canale telefonico. Tanto che stiamo pensando di cambiarci un pezzo del nostro nome, perché gestire la relazione con un cliente mediante la multicanalità è un altro mestiere complesso. Noi da ormai qualche anno stiamo lavorando aiutando aziende, anche non bancarie, nella gestione corretta della multicanalità. È un mestiere difficile, non esistono soluzioni preconfezionate, va fatta una gestione su misura in base all'azienda stessa su come si pone. Per farle un esempio, la tematica del CRM, non esiste un CRM uguale per tutti. Il CRM di un'azienda stile Google è diverso dal CRM che potrebbe fare una banca, ma alcune tematiche di base sono in comune, quindi l'ascolto, il presidio, il monitoraggio e la valorizzazione della relazione o dei messaggi che arrivano dai clienti. Ecco, noi ci occupiamo di questo. Cioè noi ascoltiamo i clienti, classifichiamo, aiutiamo l'azienda a gestire questi clienti, ma anche a valorizzarne il contenuto e le informazioni che quotidianamente mettono a disposizione. in rete, con il loro post, blog, piuttosto che qualunque email che ti manda, qualunque canale. Ecco, è importante questo. Non esiste il canale ideale. Ci sono più canali. Cioè la filiale esiste, ma sta cambiando pelle. Non è più il posto dove andare a fare un bonifico, ma il posto dove avere una consulenza vis-à-vis, con degli esperti. Quindi anche le persone devono cambiare in filiale. Stessa cosa, dicassi, degli altri canali. Non esiste il canale ideale. Vanno gestiti tutti e vanno gestiti al meglio. Ecco, questo è quello che noi facciamo da vent'anni. E il mondo finanziario è consapevole di questa evoluzione? Ma io credo assolutamente sì. Anche perché il mondo finanziario è partito un attimo in ritardo, ma ha un grosso vantaggio rispetto a altri canali. Il prodotto finanziario è un prodotto perfetto per internet. Non hai da gestirti problemi di logistica. Cioè vendere un libro è più difficile su Inter che vende un prodotto finanziario. Non hai il problema del delivery. E il mondo finanziario, soprattutto all'estero, è da un po' che se ne è accorto. Ecco, però quello che volevo enfatizzare è questo. Come in passato, non so, ho visto esempi banchi americane che facevano la filiale all'interno del centro commerciale. Ci sono due modi. Prendere la filiale classica e metterla all'interno di un centro commerciale con orario di apertura ovviamente lunedì, venerdì, sabato chiusa. Questo è un modo sbagliato. Oppure fare la filiale all'interno di un centro commerciale aperto ovviamente sabato o la domenica senza sportelli, con un approccio diverso. Ecco, è chiaro che se uno pensa di andare su internet per mettere le classiche comunicazioni tradizionali bancarie, è sbagliato. Cioè, che interesse ha uno andare a seguire la pagina Facebook di una banca che mette le condizioni e i tassi? No, deve ovviamente usare un approccio diverso. Va anche tenuto presente che i clienti prediligono canali diversi. Ci vuole un approccio marketing coerente, corretto, ma soprattutto trasparente. C'è un approccio diverso.